Ovviamente è un fatto, una situazione in giudizio che è un atto dovuto, che risale al governo che c'era all'epoca del registaggio e non a fatti attuali. Io come loro e più di loro chiedo piena verità e piena giustizia e quindi qualsiasi atto serva per andare in fondo, compreso questo, è il benvenuto.